Prego consigliere Violi. C'è nata comunque questa necessità, confrontandoci anche con le associazioni di categoria e con le piccole imprese, di presentare questa mozione per chiedere a Regione Lombardia di prendere provvedimenti e prendere una posizione in favore di chi in questo momento ha delle difficoltà oggettive. Perché se è vero che la volontà del Governo con questo provvedimento era quella di combattere l'evasione fiscale sappiamo benissimo che con questo provvedimento non si combatterà l'evasione fiscale perché obbligando delle imprese piccolissime, ricordo ci sono decine di migliaia in Regione Lombardia di partite IVA o finte partite IVA che magari fatturano 15, 20, 30 mila euro all'anno e si trovano a dover pagare magari 500, 1000 euro di costi fissi all'anno da dare alle banche per un servizio che non usano perché sappiamo magari che tante partite IVA lavorano per conto delle aziende e emettono fatture con pagamenti tracciabili quali il bonifico elettronico a 30, 60 giorni quindi non utilizzeranno mai questo strumento. Ricordo anche che per combattere l'evasione fiscale soprattutto per i lavori dei piccoli artigiani presso casa si era pensato e si era portato avanti ad esempio la detrazione sulle spese per il rinnovo dei locali per le case, per il rinnovo edilizio, per il risparmio energetico che ha dato notevoli frutti perché quando si incentiva in un altro modo senza obbligare le imprese ma si incentivano i cittadini ad utilizzare dei mezzi tracciabili attraverso ad esempio la detrazione fiscale a quel punto è interesse dello stesso cittadino utilizzare certi metodi. Non nascondo anche la difficoltà di questo provvedimento che crea alle piccole imprese dovuto anche al fatto dei costi che gli enti di credito emettono nei confronti delle imprese. Noi sappiamo dagli studi che sono stati fatti da solo 24 ore ma da molti giornali le settimane passate che l'Italia e le banche italiane e gli istituti di credito italiani sono quelli che hanno maggiori costi sulle transazioni tramite POS. Sappiamo che hanno dei costi. Colleghi per cortesia il consigliere Violi ha il diritto di poter rappresentare la propria mozione in un clima di lavoro. Vi prego pertanto di ascoltare il suo intervento. Sappiamo che hanno dei costi fissi di noleggio che vanno dai 30 ai 100 euro al mese quindi si arriva anche a più di 1000 euro all'anno. Dei costi su ogni singola transazione fissi che vanno dai 40 agli 80 centesimi più una quota percentuale sul transato che va dall'1,5% al 3,5%. È più del doppio dei costi medi europei e quindi la nostra mozione non è nata con l'intento di distruggere una volontà che è quella di aumentare le transazioni. Noi sappiamo che siamo il paese con meno transazioni con banco, mate, carte di credito ma di aiutare le piccole imprese in questo passaggio e quindi chiedere anche dei chiarimenti alle banche. Quindi chiediamo anche alla giunta di convocare gli istituti di credito e con loro avviare un ragionamento su come si possano e come si debbano abbassare i costi di transazioni in modo che si facilitano le piccole e piccolissime imprese ad utilizzare un mezzo di pagamento che sicuramente può essere nei loro interessi. Posso ricordare magari i bar, i negozi che hanno degli incassi in contanti possono metterli in difficoltà, il negoziante esce. Abbiamo visto più di una volta anche e soprattutto nella città di Milano delle rapine a dei negozianti in chiusura di negozio. Grazie al banco, ma dalla carta di credito, si possono evitare tutta questa serie di problematiche per i piccoli negozianti, per i piccoli artigiani. Certamente però questi vanno incentivati, quindi la mozione nasce con l'intento e chiede a Regione Lombardia di prendere e alla giunta di attivarsi per chiedere al Parlamento di fare un ragionamento, quando l'avevo presentata non era ancora entrato in vigore, quindi chiedere una proroga dell'entrata in vigore del provvedimento. di attivare un dialogo con gli istituti di pagamento sulle modalità e sulle commissioni che hanno le stesse banche, di avviare un'indagine a livello regionale sui costi di questo tipo di transazioni, di modo che abbiamo anche noi una statistica ufficiale da parte dell'ente Regione Lombardia e quindi a quel punto sulla base di dati oggettivi saremo in grado di dare delle risposte effettive e soddisfacenti alle stesse aziende. Quindi confermo il nostro voto contrario rispetto a questa mozione. Grazie consigliere straniere, straniero la parola al consigliere Violi. Sì grazie, raccolgo con ramarico la posizione del Partito Democratico, soprattutto dopo la discussione, nel senso che il consigliere straniero in fase di discussione parlava di evasione fiscale e si contraddiceva perché prima diceva che era un intervento, che questo è un intervento per ridurre l'evasione fiscale e poi diceva che sa benissimo che non si va a ridurre in questo modo perché l'artigiano che va e fa il lavoro in casa di una persona e non ha convenienza fa il lavoro a metà prezzo in nero e continueranno a pagare in nero e non siamo noi a scoprirlo oggi, non prendiamoci in giro e sicuramente non è un intervento che mira a ridurre l'evasione fiscale. Sappiamo benissimo che l'evasione o l'elusione avviene soprattutto anche dalle grandi imprese, ricordiamo multinazionali che creano società di servizi strumentali in Lussemburgo e in altri paesi che poi fatturano tutto fatto per abbattere gli utili e fatturano dei servizi spesso inesistenti che vengono poi contestati dall'agenzia delle entrate e chiudono magari col 10% o il 20% di sanzione, questo è un dramma che si ripete di anno in anno e non abbiamo ancora trovato il modo di combatterlo, però andiamo a vessare delle piccole imprese sapendo benissimo che non andremo a risolvere il problema dell'evasione fiscale. Parlava di sanzioni e anche qua è interessante capire questa cosa perché noi mettiamo un obbligo senza sanzioni perché facciamo una cosa all'italiana, per evitare di tirarci contro grandi ire iniziamo ad inserire un principio tra sei mesi mettiamo la sanzione e abbiamo fregato tutti, invece di aprire un dibattito serio e analizzare un problema cerchiamo sempre di fregare il cittadino in questo modo e secondo noi è una cosa alquanto indegna. Chiudo sulla questione sollevata a Federconsumatori che fa questo grande applauso all'utilizzo del POS ricordo che Federconsumatori, e posso sottoscriverlo ora, tra due mesi sarà quella che piange e che i consumatori saranno vessati dagli imprenditori ladri e dai commercianti ladri che avranno chiaramente per forza di cose addebitato il costo sul consumatore finale quindi non prendiamoci in giro e sappiamo come funzionano le cose quindi oggi gli facciamo un plauso e loro fanno un plauso a uno strumento e tra due mesi saranno a piangere e a bussare alla porta perché ancora una volta il consumatore finale e il cittadino sono vessati quindi è davvero alquanto imbarazzante la presa di posizione del Partito Democratico che sembra che voglia difendere una posizione del proprio governo e non voglia entrare nel merito di un problema perché le argomentazioni che ha portato all'interno del dibattito non sono assolutamente sostenibili e si possono smontare facilmente detto questo prendo con favore l'appoggio di tutto il resto dei gruppi di quest'Aula perché per noi è un problema importante e il resto dei gruppi ha deciso di appoggiare anche il consigliere Capelli ha deciso di dare un valore aggiunto a questa mozione quindi dichiaro il nostro voto favorevole chiedo anche il voto per appello nominale a nome del sottoscritto il consigliere Buffagni, Corbetta, Casalino e Fiasconaro grazie grazie, si sono concluse le dichiarazioni di voto pongo pertanto in votazione la mozione 257 modalità di pagamento tramite pos presenti 61, votanti 60, favorevoli 44, contrari 16 il consiglio approva grazie 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 grazie